io e leila ci amiamo tantissimo a domani posso salire ma c'è un problema aspetta 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 possiamo parlare lo prendo per un no suo fratello non la fa uscire di casa ridammi il telefono sai che nelle sim c'è la gelatina di maiale buon appetito non so cosa fare sei pazzo salam aleikum aleikum salam c'è una persona per te ah no non è una persona è una tenda da campeggio come vi chiamate sorella shilasad cosa fa è matta sono io allora com'è sa quello che vuole non è come le altre fratello controllatevi lei non fa per te seguitela devo sapere dove abita fatemi parlare con vostro padre non se ne parla c'è una santa ti devo parlare forse sei solo frustrato sessualmente sarai mia moglie no mamma sono io a a a a a a a a a